Io ho avuto la possibilità di collaborare con la Presidenza Iotti in due periodi. Dall'87 all'89 sono stato ministro per rapporti con il Parlamento ed ero a contatto più volte a settimana. La novità è stata percepita come di straordinaria importanza, una svolta veramente storica per il nostro Paese. Basta pensare che soltanto a metà degli anni Sessanta le donne erano state ammesse in magistratura, nella diplomazia, nella carriera per i prefetti. Il primo ambasciatore, la prima donna ambasciatore all'estero di un Paese straniero è dell'85 se non ricordo male. La prima donna a capo di una prefettura in una provincia mi sembra sia i primi anni 90. Quindi nel 79 la scelta della Presidenza della Camera con una donna era stata veramente una novità, una svolta straordinaria e si coglieva interamente. Un grande senso delle istituzioni, di rispetto delle istituzioni, da non piegare mai a interessi di parte, qualunque fosse l'interesse e qualunque fosse il momento. Un secondo elemento è il rispetto della Costituzione, dopo la tutela della Costituzione, intesa come fu detto da più di uno nell'Assemblea Costituente, come casa comune, in cui ritrovarsi tutti rispettandola. Il terzo elemento è quello del ruolo della donna nella Repubblica, nella società e nelle istituzioni. Grazie per la visione.